...90 circa, Riccardo Portideone, in partenza per la terza crociata in Terra Santa. Il Sacrario fu progettato dall'architetto Giovanni Battista Milani e inaugurato nel 1937. Attualmente nel Sacrario ci sono custodite le sfoglie di... ...e che c'è un'occasione per porgergli saluti più affettuosi su eccellenza Monsignor Santo Marcello, Ordinario Militario Battaglia, dei concelebranti, delle autorità qui presenti, civili e militari, insieme a tutte le...